Meg, hai un minuto? Ma che diavolo? L'ho fatto per te, Brian. Meg! Senti, a quanto pare non mi hai ascoltato ieri, quindi te lo rispiego. E qui per aiutarmi c'è il preside dell'Istituto per Sordi di New York, il signor Garrett Morris. Meg, noi non siamo mai stati fidanzati. Noi non siamo mai stati fidanzati! Io non sarò mai, mai attratto da te. Io non sarò mai, mai attratto da te. Ti comporti come una psicopatica. Ti comporti come una psicopatica! Buonanotte e divertiti molto domani. Buonanotte e divertiti molto domani! Non potrai ignorarmi, Brian. Mi piace il tuo culo. Buonanotte. Buonanotte. Percepola. 。 Buonanotte.